buongiorno a tutti siamo qui per presentarvi uno dei multi minati di casa samsung in fatto di netbook e il nostro nuovo n220 n220 rappresenta uno dei prodotti della serie premium è un prodotto con una batteria a 6 celle da 5200 mAh piattaforma n450 1 giga di memoria 250 giga di hard disk il prodotto come potete vedere rispecchia quello che è lo stile di samsung in fatto di design ed è costruito con materiali premium e con un design che da noi viene denominato crystal design come potete vedere l'instant on una volta avviato la macchina premendo il tasto f6 parte direttamente con questo passate nel sistema operativo che ci consente di effettuare una serie di operazioni molto semplici collegarsi ai vari siti twitter alla propria gmail questo consente di tutte queste operazioni senza dover aspettare senza dover utilizzare il sistema operativo proprietario della macchina con le n220 è possibile avere piena connettività rappresentata da wireless lan dal bluetooth non che dall'interfaccia da tre porte usb come potete vedere una porta di rete e un'uscita vga per poter collegare il prodotto a un monitor esterno per quanto riguarda il fondo del del prodotto il fondo è molto pulito e come potete vedere rappresentato da una da una griglia dove ci c'è il subwoofer che serve per migliorare quello che la il sonoro per vedere film e per sentire canzoni e dalla batteria che di facile disinstallazione e reinstallazione e una batteria che completamente in linea con quella che è la sagoma del del prodotto quindi lineare e rispecchia quello che è il design in una batteria ricordiamo da 6 a 6 celle a 5200 mili ampere allora